Gianfranco, puntata numero 307, la prima del nuovo anno, 2015-2016, ti auguro di raggiungere Biscardi che facciamo noi da due anni, 36 anni di trasmissioni, facciamo un saluto al nostro amico Aldo Biscardi. Vero, bravo, grande Aldo, grande professionista, senti soprattutto ai giovani tra due puntate inizierà anche la gara, quindi di nuovo giovani provenienti da tutta Italia, di grande talento, di grande espressione. Speriamo di dare a loro delle possibilità fuori anche da questo studio che tu sai il progetto, se il progetto è quello che noi stiamo preparando sia per gli anziani degli anni 60-70, ma anche per i giovani che hanno chiesto, ma non svegliamo niente perché diamo tempo a tempo, però ci potrebbero essere delle belle novità, fuori dall'Italia chiaramente. Addirittura, quindi si varcano anche i confini. Benissimo.